Il PORMES che gestisce questa iniziativa per Agid, dedicata alla formazione del responsabile per la transizione digitale. Siamo appunto al settimo appuntamento, oggi parliamo di favorire il riuso del software. Come al solito io cercherò di lasciare il più tempo possibile ai relatori, quindi cercherò di intervenire poco e chiederei di passarsi la parola ai nostri relatori, a Guido Pera e a Stefano Paggetti e risponderemo alle domande che ci porrete in chat come al solito. Chiederei ai relatori di guardare un po' le domande che noi gli evidenziamo nella chat, perché se coerenti con il loro discorso potrebbero dare una risposta già online, lasciando eventualmente a una risposta più circoscritta, più specifica, dedicata per quegli argomenti che magari hanno necessità di essere trattati in forma scritta. Eventualmente il nostro riferimento è sempre la pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti, perché lì troverete sia la registrazione sia i PDF con le risposte che sono rimaste innevate nel corso del webinar. Mi taccio e do la parola a Guido Pera. Allora, buongiorno a tutti, grazie di esserci e vedo che siete veramente tanti. Io, a differenza un pochino della presentazione, ci divideremo il compito, oltre che a me e a Stefano Paggetti mi diterò il compito della presentazione. Mi scusi, potrebbe attivare la webcam per favore? Attivata. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. I relatori, in effetti, a differenza della presentazione che ci è stata fatta, abbiamo deciso di dividerci i compiti in più di due. Quindi io farò una presentazione delle linee guida, della loro attuazione. Poi seguiranno Alessandro Ranellucci e Leonardo Favario per quanto riguarda come funziona Developers Italia. E a concludere poi ci sarà Stefano Paggetti che vi darà qualche indicazione sulla soluzione principe dell'attuazione di queste linee guida, che sarebbe quella della realizzazione delle community. punti. Io partirei subito. Allora, iniziamo subito a parlare delle linee guida, da cosa sono scaturite. Le linee guida sono scaturite dagli articoli 68 e 69 del CAD, nelle quali il 69 prevede la definizione di criteri per analisi comparativa delle soluzioni software per le pubbliche amministrazioni, di questo ne parlerò più ampiamente in seguito, e il 69 il riuso delle soluzioni e gli standard aperti. Le linee guida che sono state approvate nel 9 maggio di quest'anno? Intanto sostituiscono la precedente circolare Agi della 63 del 2013, che era quella che parlava della valutazione comparativa, che prevedeva quindi l'articolo 68 e in più danno chiaramente un'idea completamente diversa di cosa è diventato il riuso. Il riuso precedentemente era semplicemente uno scambio di informazioni tramite le pubbliche amministrazioni, quindi era uno scambio di tipo chiuso, nelle quali le pubbliche amministrazioni poi finivano per usare software che era stato illustrato, non c'era naturalmente il codice sorgente, all'interno di un catalogo tramite delle schede di presentazione dello stesso software. Naturalmente i soggetti a cui si aprono queste linee guida continuano ad essere le pubbliche amministrazioni. Gli oggetti a cui si applicano queste linee guida? Partiamo subito dagli oggetti, perché precedentemente il catalogo prevedeva essenzialmente un riuso tra applicazioni di cui erano titolari le pubbliche amministrazioni e gli oggetti si sono andati ad ampliare a tutto quanto il mondo dell'ICT, quindi oltre alle applicazioni che possono essere web, mobile e desktop, abbiamo le API, abbiamo le componenti, soprattutto nei casi in cui abbiamo un'architettura componenti da parte delle soluzioni, abbiamo gli ambienti come potrebbero essere i fronti, le librerie, plug-in, sistemi operativi, poi vedremo che nei sistemi operativi in effetti il riuso di soluzioni open source è già da tempo usato nella pubblica amministrazione, immaginiamo Linux, LibreOffice e gli altri. Siti web, perché no? Tutto quanto quello che è stato fatto all'interno delle linee guida riguardanti il design del web per le pubbliche amministrazioni, alla fine parte da oggetti che sono chiaramente oggetti riusabili. Rappresentazione di progetti e documentazione di progetto, su questo chiaramente è una novità, perché? Perché il riuso di rappresentazione di processi è quanto di più incentivante nell'accelerazione dei processi di generalizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, considerate che oggi si considera l'analisi dei processi una delle attività che prendono maggiormente tempo all'interno della creazione di una soluzione per le pubbliche amministrazioni, si parla addirittura del 30-40-50% dell'intero ciclo di realizzazione di una soluzione e la documentazione di progetto. La documentazione di progetto che vedremo in effetti diventa anche quasi un obbligo all'interno dei repository, all'interno del quale dovremo andare a mettere le nostre soluzioni. Parto anche da un'altra, questo è semplicemente, tanto rimarrà a disposizione di tutti. Sono partito da questa slide che riguarda la comunità europea, per chiarire come le linee guida confluiscono all'interno di una strategia europea ormai consolidata. La frase che vede riportata lì, che è un intervento di Peirce o Donue, è un intervento di solo sette giorni fa, 25 novembre 2019, in cui la frase che ho sottolineato mi sembra assolutamente autoesplicativa, usiamo l'open source per alimentare un'Europa digitale e adesso per la prima volta vi sto parlando di open source, accostato al riuso. Altri siti che io vi invito ad andare a dargli un'occhiata sono quelli delle building blocks, sempre gestiti dalla comunità europea, che i building blocks sono delle funzionali di base sotto licenza aperta, per le quali che possono essere utilizzate e per essere utilizzate in qualsiasi progetto. Il discorso dell'Eufossa Square, che all'interno di questo progetto c'è un'attività che prevede di garantire a mantenere l'integrità e la sicurezza dei principali software open source e quindi sono risorse messe a disposizione della comunità europea per rendere il software open source sicuro e integro e se qualcuno vuole ancora di più interessarsi del mondo open source in generale, la stessa comunità europea ha creato un osservatorio, quell'open source osservatory, che è una sorta di vetrina su quello che si fa nel mondo, soprattutto poi nelle pubbliche amministrazioni con l'open source. Cosa cambia con le linee guida? Alcune cose di questa slide che vorrei sottolineare sono essenzialmente, intanto le PA devono privilegiare le soluzioni open source a partire da quelle messe in riuso dalle pubbliche amministrazioni, permane, ma questa è una cosa che sappiamo tutti, la valutazione comparativa tecnica che comunque è prevista anche dal testamento degli appalti. Il fatto che a questo punto l'acquisto di software proprietario deve essere fortemente motivato e la motivazione deve chiaramente essere, la motivazione principale deve essere quella, non c'è software open source in grado di fare quello che chiaramente mi serve all'interno della mia pubblica amministrazione. E soprattutto, ultima cosa, ma secondo me forse una delle più importanti, il software sviluppato per conto delle PA deve essere reso disponibile con la licenza open source, ovvero usciamo dal catalogo chiuso, dai rapporti convenzionali tra pubbliche amministrazioni e entriamo nel mondo dell'open source vero e proprio. E qui, a questo punto, secondo me, questa è la sintesi delle linee guida, che è sinceramente un neologismo, il riuso si conferma con una scelta strategica della PA, il riuso si identifica con l'open source, a questo punto, secondo il sillogismo, l'open source è una scelta strategica della PA e qui mi vado a collegare naturalmente con l'affermazione che ho descritto poc'anzi da parte di uno dei dirigenti della Commissione Europea. Naturalmente, uno degli altri obiettivi che si pongono, quando ad un certo punto il riuso è paradichematico con l'open source, è che si può andare verso una razionalizzazione delle soluzioni utilizzate nei settori e servizi comuni alle PA, quindi ci aspettiamo che una maggiore distribuzione del codice, quindi di soluzione open source all'interno della pubblica amministrazione, faccia sì che possano essere chiaramente anche razionalizzati i costi e le scelte su alcuni settori specifici, passiamo alla gestione del personale, la gestione del conservazione documentale, la comunicazione istituzionale, la trasparenza. In alcuni casi questo già c'è, ci sono già adesso all'interno della vetrina di cui poi illustrerà le caratteristiche Leonardo, alcune soluzioni open source che già sono praticamente, che possono gestire questi argomenti, gestione e conservazione documentale ne stanno già un paio, trasparenza amministrativa ce ne stanno già almeno due o tre. Quindi comunque questo in qualche maniera fa sì che le pubbliche amministrazioni vengano coinvolte in nuovi campi di azione, intanto la gestione di licenza aperte, la gestione delle comunità dove sia a questo punto considerato indispensabile la creazione di comunità e noi siamo estremamente convinti che le comunità sia la risposta organizzativa corretta per una corretta attuazione delle linee guida e perché no, anche una nuova gestione delle interazioni con il mondo open source, che fino ad adesso è rimasto sempre comunque slegato da quel mondo di fornitori che di solito sono quelli che creano soluzioni per la pubblica amministrazione. Mi andava un attimo di rientrare velocemente sull'affermazione di O'Donway, quando dice inizialmente crediamo che nell'open source perché promuove l'innovazione e qui ci siamo, ma la concorrenza e riduce gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Bene, di questo siamo convinti anche noi quando abbiamo scritto le linee guida, quindi la gestione dell'interazione con il mondo open source, con il mondo degli sviluppatori in qualche maniera significa essenzialmente questo, è una nuova apertura praticamente delle pubblica amministrazione nei confronti di un mercato, di una possibilità di entrare nel mercato delle soluzioni per la pubblica amministrazione che fino ad adesso era stato praticamente ristretto, diciamoci la verità, a non molti fornitori. Poi altre nuove opportunità che ci possono creare, la superazione del lock in, una distribuzione più efficiente della spesa, una maggiore trasparenza nel codice sorgente, questo è assolutamente accertato, Leonardo vi farà vedere poi essenzialmente nei repository cosa significa essere trasparenti, per noi la trasparenza significa che io a quel punto posso accedere a una soluzione non soltanto da una scheda illustrativa, ma vedendo il codice, vedendo la documentazione per gestire questo codice, quindi a questo punto ho la possibilità addirittura di testarlo, di scaricarlo, di testarlo, di vedere veramente se soddisfa le esigenze e questa è una forma di trasparenza come prima non c'era mai stata. È naturalmente un'accelerazione verso processi di interoperabilità, attualmente ci sono chiaramente delle iniziativa a livello europeo, tra cui l'EIF, le quali prevedono chiaramente che per avere una maggiore interoperabilità e voi sapete bene che l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni è forse l'unica soluzione che abbiamo perché i nostri processi, le nostre procedure, i nostri procedimenti amministrativi, soprattutto quelli che finiscono per interrogare più pubbliche amministrazioni, passano ad un'interoperabilità efficiente, un'interoperabilità efficiente se è un'interoperabilità standard, se è un'interoperabilità quindi che in qualche maniera può passare quindi per, perché no, per un riuso e come vi dicevo prima il riuso è paradigmatico con l'open source ed ecco perché all'interno degli oggetti noi immaginavamo anche l'API, quindi tutta quella fonte di sistemi che fanno sì che i sistemi stessi delle pubbliche amministrazioni possono dialogare tra di loro. Adempimenti previsti da linee guida, eccoli qui, poi a questo punto cominciamo un po' a approfondire, analisi delle esigenze e valutazione comparativa, scelta della licenza aperta, stiamo dicendo che chiaramente a questo punto bisogna entrare nel mondo open source e per entrare nel mondo open source si invica a scegliere una licenza aperta, mantenere, il maintenance non è una semplice gestione del software immaginando casomai di farselo aggiornare dal fornitore, ma come vedrete occupa delle attività un pochino più variegate, il code hosting di cui vi parlerà più ampiamente Leonardo e la gestione delle comunità di PA di cui vi parlerà più approfonditamente poi successivamente Stefano. Valutazione comparativa, criteri previsti, questi sono quelli che sono stati, che sono già ben identificati all'interno delle linee guida, il primo tutto sommato è abbastanza conosciuto all'interno della pubblica amministrazione, la definizione del costo complessivo, ma poi gli altri, utilizzo di dati formati e dati aperti, utilizzo di interfacce aperte, utilizzo di standard per internalità, livelli di sicurezza adeguati, naturalmente una conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e livelli di servizio del fornitore definiti in service level agreement. Considerate che nel caso attuale riuscire chiaramente ad ottenere queste informazioni da un fornitore che ha una licenza chiusa, privata, non sono così banali e comunque pretendono da lui un'apertura non da poco, mentre invece essendo comunque dei criteri che fortemente strategici, se uno li va a leggere in questo senso, da parte delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda l'interoperabilità, per quanto riguarda gli interfacciamenti, finisce che in qualche misura possano essere maggiormente fluibili proprio guarda caso da prodotti open source e probabilmente però questo significa anche ad avere delle competenze, forse questo è un elemento di criticità di cui siamo assolutamente consapevoli, delle competenze a bordo delle pubbliche amministrazioni che comunque in questo momento sono un po' difficili da avere, ma comunque vanno costruite. Obiettivi da base dei criteri di valutazione, intanto cominciamo dal primo che secondo noi è quello più importante, è soddisfare le esigenze definite dalla PA che tengono conto dei bisogni dei vincoli, questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo far sì che le pubbliche amministrazioni si abituino a descrivere le loro esigenze, quindi non stiamo più parlando di un software che mi compro perché mi piace, la conformità alle normative europee e nazionali, far sì che comunque ci sia un'attrazione delle strategie, soprattutto il piano triennale, continuo a battere sul discorso dell'interrogabilità, sicurezza, qualità e soprattutto contenimento dei costi. Per quanto riguarda il documento descrittivo delle esigenze, ecco perché vi dicevo che è un aspetto secondo me fondamentale, è previsto all'interno delle linee guida che l'amministrazione che affronta un acquisto, che affronti chiaramente un mettere all'interno del suo patrimonio una soluzione, ma anche banalmente semplicemente un plug in, debba chiaramente essere assolutamente consapevole dei suoi fabbisogni, quindi si prevede e si suggerisce in questo caso, non è proprio obbligatorio, come invece la comparazione valutativa, un'analisi dei fabbisogni e un'individuazione dei vincoli, casomai economici e temporali, che condizionano le scelte dell'amministrazione. In fin dei conti il documento di valutazione comparativa cos'è? Non è nient'altro che una comparazione tra le soluzioni che sono state rinvenute, casomai come vedremo, sulla vetrina di Rivelo Versa Italia e soprattutto sulle esigenze della pubblica amministrazione, descritte nel documento in cui chiaramente abbiamo intitulato i fabbisogni, in cui chiaramente la priorità è data alle soluzioni open source di cui è titolare la PA, perché nell'albero decisionale è chiarissimo nelle linee guida come sia prioritario scegliere tra le soluzioni di cui è titolare la pubblica amministrazione e quindi che siano obbligatoriamente open source, quelle che sono comunque open source all'interno del mercato e successivamente, solo in un successivo momento, casomai quelle di licenze private. Fermo restando che in una prima fase poi bisognerà comunque immaginarsi un altro aspetto, all'aspetto chiaramente riguardante, se ad un certo punto non dovessi trovare naturalmente una soluzione che mi soddisfa le mie esigenze né nel mondo dell'open source né nel mondo del privato, un discorso che perdasse chiaramente acquisire, creare una soluzione secondo le mie esigenze, ma in questo caso non farei nient'altro che di nuovo immettere nel mercato di riuso, nel mercato dell'open source perché consideriamo che il mercato dell'open source significa in qualche misura avere una platea che è molto più grande di quella delle amministrazioni pubbliche perché l'open source è pubblico, è assolutamente pubblico, perché ai repository come vi illustrerà Leonardo ci si accede praticamente tutti, nessuno viene escluso e quindi aumentare gli asset della pubblica amministrazione. Guido mi scusi se la interrompo perché ci stanno segnalando che sentono un po' male, io credo che non sia una questione di volume, ma ecco si avvicina un po' di più il microfono alla bocca, proviamo a vedere se va meglio. Perfetto, come va adesso? Ok perfetto, allora naturalmente questi sono invece criteri specifichi di valutazione che sono opzionali a quelli precedentemente descritti, ma sono quelli che in questo momento sono più vicini al mondo dell'open source e sono una presenza di una comunità, un manutentore, sto parlando chiaramente delle descrizioni del prodotto che avrò dentro al repository, accordi con terzi stipulati dall'amministrazione e casomai utilizzabili dall'amministrazione valutante, soprattutto i vincoli e le dipendenze da parte della soluzione open source nei confronti di altro software, se ci sono competenze interne alla PA per gestire quel tipo di software, per esempio linguaggi, numero e tipologie di altri PA che utilizzano nel progetto open source e poi tutta una serie di indicatori che sono i tipici indicatori che troviamo nei repository all'interno del quale vengono chiaramente caricate le soluzioni open source, considerate che una delle obblighi naturalmente di un titolare open source pubblica amministrazione, è quella di inserire nei repository indicati all'interno delle linee guida le sue soluzioni. Naturalmente tutto questo abbiamo anche immaginato di individuare e credo che entro gennaio o febbraio lo renderemo pubblico, una serie di, oltre di checklist, ma una serie praticamente di tool che possono aiutare le pubbliche amministrazioni in fare questa comparazione di tipo valutativo, quindi aspettatevi tra gennaio e febbraio, spero più di gennaio che a febbraio, ma oltre febbraio non dovremmo andare, una serie di documentazioni di tool che chiaramente dovrebbero essere d'aiuto, di supporto alle pubbliche amministrazioni per fare questa comparazione valutativa. Un po' la sostituzione della circolare 63 che abbiamo chiuso. Per quanto riguarda la scelta della licenza aperta, e qui entriamo in un mondo che capisco essere un mondo abbastanza poco conosciuto nella pubblica amministrazione, cominciamo a dire che cos'è il copyleft, riquadro in basso a destra, è l'obbligo per i fruttori dell'opera nel caso vogliono distribuire l'opera modificata a farla ponendo sulle modifiche la stessa licenza usata all'altivale della stessa. Cioè è praticamente quello strumento che mi permette di avere un maggior controllo anche nei confronti del codice creato da altri ma che deriva dal mio. Perché dovete anche capire che in effetti la soluzione con una licenza aperta open source, immessa nella rete, perché diciamo che è esattamente così, è comunque una situazione interessante perché entra in un mondo, entra chiaramente in un mare. Quindi dobbiamo immaginare che a questo punto è un mare del quale c'è un continuo dare ad avere, non soltanto dalle altre pubbliche amministrazioni ma immaginiamo da quelli che casomai guardano il nostro codice e ci dicono che forse ci sta un errore e via di questo passo. Quindi dobbiamo immaginare in effetti una situazione nella quale la nostra soluzione è una soluzione studiata e perché no migliorata anche dal resto del mondo. Compatibilità con presistenze di licenze su oggetti che vincono la soluzione da licenziare perché se il mio stesso software come succede nel 99% dei casi deriva da una soluzione fatta da altri, ma che sia una soluzione open source però, io a questo punto devo comunque vincolare, quindi devo vincolare il mio codice a quello precedente, dall'altro da cui deriva e metterci la stessa licenza che chiaramente è stata posta dal titolare del codice da cui deriva il mio. Il suggerimento in generale che comunque diamo e che c'è fortemente sponsorizzato dalla comunità europea è la licenza europea e UPL. La licenza europea UPL adesso attualmente è nella versione 1.2, è una licenza che è compatibile con la stragrande maggioranza delle licenze americane, ma che ha una caratteristica in più che è molto importante dal punto di vista giuridico, che ha la traduzione ufficiale in tutte le lingue della comunità europea, che quindi ne fa uno strumento essenzialmente estremamente gestibile anche in casi di contenziosi sui tribunali e quindi sulle sedi giudiziarie di tutti i paesi europei. Alcune raccomandazioni, come vi dicevo, ad un software deriva o ad un altro bisogna esattamente applicare la licenza al software da cui deriva. Altra raccomandazione estremamente importante a questo punto è nei contratti di fornitura di software, qui sto parlando naturalmente di software ex novo, stipulati, va specificato che la stessa PA consegue la titolare dei prodotti e questo è esenzio dell'articolo 11 della legge 11 aprile 1941-630, che non è nient'altro che l'attuale testo unico sul diritto d'autore. È estremamente importante questa raccomandazione, perché è da anni che è dimenticata, ha generato dei contenziosi anche con dei fornitori, perché ormai in sede giurisdizionale è stato chiaramente accertato e ormai consolidato che è sì un diritto della pubblica amministrazione quando viene fatto del software per lei che lei ne sia il titolare, ma che questo sia esplicitamente descritto all'interno del contratto. Altra cosa, il maintenance, che sono il complesso di attività che riguardano la gestione e l'evoluzione del software con licenza aperta, qui passo subito a dirvi che non è semplice gestione, qui ci sono alcuni esempi di attività di un vero maintenance che si occupa di gestire al meglio il codice, il software open source di cui chiaramente è titolare la pubblica amministrazione. Progettazione e implementazione di nuovo software, questo va da sé, come sì la personalizzazione, la configurazione, la manutenzione, ma a caso mai anche la distribuzione del software è tra le piazze, che lo riusano, perché a quel punto la gestione del repository, questa è una novità, perché questo software sta all'interno del repository che deve essere gestito in maniera corretta e anche con una certa competenza, va sicuro. Tutela della proprietà intellettuale, qui siamo in una situazione nuova, perché attualmente la tutela della proprietà intellettuale era abbastanza lasciata in un cantone, in quanto si era in un mondo abbastanza chiuso e nessuno conosceva il nostro codice, oggi noi abbiamo la titolare del codice, ci mettiamo una licenza aperta, quindi in qualche maniera abbiamo in effetti il dovere di titolare nella nostra proprietà intellettuale, cosa significa? Di in qualche maniera titolarci e anche in questo caso poi vi daremo supporto con il centro di competenza per quanto riguarda il furto di codice, che non credete che sia una cosa che succeda tanto raramente. Formazione al persona della PA. La comunicazione, un'altra cosa che avviene quando si incisimente sul repository è la raccolta e analisi suggerimenti da parte di chi va a vedere il nostro codice, che possono essere anche semplici ragazzi che hanno voglia di andare a guardare il codice della pubblica amministrazione come è fatto e quindi raccolta dei suggerimenti nel discorso dei bugs, avere un feedback da parte degli utenti, proposte di nuove funzioni e via. Ce ne sono poi altri che naturalmente sono maggiormente legati, altre attività che possono essere legate quando si creano ovviamente delle comunità tra le PA. A questo punto, visto che sono passati i miei bravi 30 minuti, abbiamo il concetto del codostin, utilizzo dei repository come requisiti indicati in allegato alle linee guida, un discorso che lascio adesso fra un po' la parola a Leonardo, la gestione delle comunità e di cui se ne occuperà Stefano Paggetti. Io volevo semplicemente chiudere il mio piccolo intervento con il fatto che una comunicazione per poter a questo punto dare supporto alle pubbliche amministrazioni abbiamo creato qui in Agid con il supporto del team digitale un centro di competenza che si chiama centro di competenza riuso open source in cui abbiamo questi obiettivi, supportare le APA nell'annivizzazione e nella condivisione dei modelli di governance, individuare strumenti e modelli di governance per la gestione delle soluzioni in riuso, quindi il discorso delle classificazioni, repository, divido, favorire alliemento delle linee guida di policy locali e di strumenti, supportare il territorio per il riuso, favorire l'animazione dei community territoriali, fornire supporto tecnico giuridico e qui tutto sommato vi posso garantire che tra queste oltre al discorso di supportare come stiamo cercando di fare raccogliendo esperienze e le modalità di gestione da parte delle pubbliche amministrazioni, soprattutto la forma community, una delle attività che ci sta perdendo più tempo e che tutto sommato stiamo cercando di potenziare è l'ultima, è fornire supporto tecnico giuridico per la scelta e la gestione delle licenze, quindi considera che anche su quell'aspetto da parte nostra avete il supporto desiderato. Questo praticamente è una specie di finalino, costruire strumenti a supporto dei processi di acquisto, sviluppo e riuso di soluzioni informatiche nella PA. Vi ringrazio dell'attenzione, per quanto riguarda, poi casomai sulle checklist mi pare di aver già risposto, per quanto riguarda, adesso io lo aspetti, riguardanti il Codostin e come funziona Divile Persitalia, che è chiaramente lo strumento principale che in questo momento abbiamo per la distribuzione e della conoscenza delle soluzioni open source di cui è tutta la pubblica amministrazione, darei la parola a Leonardo se è in ascolto e poi casomai ci diamo chiaramente del tempo per quanto… Oh Alessandro! Ok Ale! Quindi a questo punto darei anche la parola direttamente ad Alessandro. Stiamo caricando? Se mi sentite, intanto che si carica la presentazione, vi saluto, sono Alessandro Ranellucci, qui con me c'è anche il mio collega Leonardo Favario, siamo del team per la trasformazione digitale della presenza del Consiglio che come sapete proseguirà la sua attività da gennaio sotto la forma del Dipartimento di trasformazione digitale sotto la guida del Ministro competente e tra le attività che il team digitale ha seguito dal 2017 a oggi c'è la creazione di Rivello Verso Italia che è la piattaforma che è stata inizialmente creata come community degli sviluppatori dei servizi pubblici digitali italiani e che poi è stata individuata dalle linee guida per il riuso quale piattaforma dove vanno pubblicate le soluzioni dei proprietari della pubblica amministrazione. Adesso entreremo un po' nel merito di questa soluzione. mi informano che la presentazione ha qualche problema, ma intanto io vi parlo per risolvere i problemi e vi dico intanto che quello che ci sta a cuore, che vi rimanga dopo questo webinar, visto che siete RTD che ovviamente sul territorio ciascuno nel proprio ente ha il delicato e importantissimo compito di portare a terra queste cose che ci stiamo dicendo, è importante che da questo webinar nel quale vi stiamo sicuramente citando una serie di aspetti che per qualcuno sono più familiari, per altri invece sono totalmente nuovi e quindi in realtà ci sarebbe moltissimo da dire e molti riferimenti da darvi e scendere anche più nell'aspetto formativo culturale che accompagna questo processo di trasformazione dell'approccio al software portato dall'open source che è la strada scelta dal legislatore ormai a tutti gli effetti e a tutti i livelli. È importante che vi restino alcuni concetti chiari, operativi, in modo che possiate da domani effettivamente capire come applicare concretamente queste novità nell'interesse del vostro cliente e ovviamente anche dei cittadini a cui i servizi sono rivolti. A questo fine, non so se voi vedete… ah sì, posso scorrere… c'è modo di andare a pagina? Non so se voi vedete a scorrimento oppure se… come faccio a andare… scusatemi è una modalità diversa. Allora, dovrebbe utilizzare le frecce che ci sono nell'angolo in basso a sinistra. Sì, che si disallinei un po' con lo schermo. Va bene. Allora, volevo arrivare a questa slide qui per dirvi in sintesi, da sin da subito, che cosa vorremmo che vi portasse a casa da questo webinar. Il concetto già espresso da Guido e per il quale da ora in poi, per qualosiasi acquisizione di software, oltre a tutti gli addempimenti previsti dal codice degli appalti, che ovviamente sono ben noti, è necessario fare questa valutazione comparativa, che è un esercizio di valutazione tecnica tra le soluzioni disponibili e soprattutto perché bisogna motivare la scelta di acquisire software in licenza o svilupparne di nuovo. Questa è la novità, quindi è un documento in più, è un foglio in più, forse qualche pagina più di una da allegare nelle procedure di acquisto, acquisizione di un software da oggi in poi. Questo è in realtà un obbligo di legge già da alcuni anni, ma ora con le linee guida è dettagliato in un processo che vi invito a leggere, quindi il primo consiglio pratico che vi do, andate sulle linee guida nella sezione valutazione comparativa, è una sezione abbastanza sintetica, trovate descritta in tre macrofasi come si deve fare questo documento, è un esercizio che va seguito, che consiste nel cercare prima tutte le soluzioni su Developers Italia messe a riuso dalle pubbliche amministrazioni, poi tutte le soluzioni messe a riuso, tutte le soluzioni open source di terze parti presenti sempre su Developers Italia, più eventualmente altre soluzioni open source di vostra conoscenza e infine se da queste prime due fasi non è emerso software adatto ai requisiti, è possibile procedere con la valutazione di sviluppo ex novo o di acquisizione in licenza. Quindi appunto da domani che cosa cambia per voi praticamente? Che per qualsiasi acquisizione di software e anche rinnovo è necessario fare questo esercizio di valutazione comparativa per il quale poi saranno appunto disponibili strumenti come diceva Guido e sarà molto importante, quindi questo secondo consiglio che do a voi tutti, sarà molto importante anche condividere queste valutazioni a mano a mano che le farete e attraverso gli strumenti della community, cioè il forum soprattutto che adesso vi ricorderò con più dettaglio, sarà molto importante andare a condividere questi documenti in modo da formare un patrimonio condiviso di queste valutazioni che inevitabilmente andranno a ripetersi nei vari enti di cui voi siete RTD. Altro aspetto importante è quello che riguarda l'obbligo di legge dell'articolo 69 relativo a rilascio in open source di tutto il software che i vostri enti decideranno eventualmente di commissionare sviluppando quindi ad hoc questo software. Vi dico da subito, la norma è retroattiva, il CAD non ci dava possibilità di evitare questa cosa, nei velini guida abbiamo indicato una retroattività ragionevoli di 5 anni in termini di prioritizzazione perché ovviamente c'è un tema di obsolescenza tecnologica. Questo cosa vuol dire che quindi quello che c'è da fare da domani in poi è di andare a censire il patrimonio di software che voi avete in casa e stabilire una roadmap delle modalità per rilasciare questo software in open source nel catalogo di Developers Italia con le modalità che riterrete e che soprattutto noi saremo felici di aiutarvi a considerare, quindi considerate noi, considerate Agid, tutta la squadra insomma a vostra disposizione per fare questo tipo di riflessioni su come immettere nel patrimonio nazionale del software open source le soluzioni di vostra proprietà. Questo però che cosa vuol dire? Oltre alle soluzioni già esistenti di vostra proprietà, da domani ovviamente cambia qualcosa anche per quanto riguarda le soluzioni che doveste decidere di commissionare ex novo. Abbiamo detto prima no? C'è da fare la valutazione comparativa, segue delle fasi e a un certo punto arriverete a una fase in cui dite no, non c'è una soluzione esistente che posso prendere a riuso, che si adatta ai miei requisiti e quindi non ce n'è un open source di terze parti, a questo punto valuto di svilupparne un ex novo, che è quello che inevitabilmente farete comunque per una buona parte del vostro fabbisogno tecnologico. Solo che cosa succede? Che a questo punto questo software andrà rilasciato in open source. C'è un modo molto facile e molto conveniente per fare questa operazione e qui vado direttamente su una slide, e cioè quello di prendere gli allegati tecnici delle linee guida. Vi invito a leggerli. Le linee guida hanno degli allegati tecnici che sono scritti come dei facsimile, pronti per essere inclusi nei vostri contratti, nei vostri capitolati tecnici. Sono degli allegati che sostanzialmente vi aiutano a avvalervi del vostro fornitore o della vostra in house o in generale del vostro partner tecnologico per quanto riguarda l'obbligo di rilascio in open source. Detto in parole povere, se voi da domani dovete fare un affidamento di uno sviluppo di un software ex novo, potete prendere l'allegato B delle linee guida, fare copia e incolla, metterlo nel contratto col vostro fornitore e in questo modo il fornitore farà tutto quello che serve per adempiere a questo obbligo senza che in capo al vostro ente vi siano ulteriori adempimenti, costi o attività da fare. Questo vale quindi per la realizzazione di software ex novo, l'allegato B, vale anche per gli affidamenti di manutenzione di software esistente, l'allegato C, perché c'è un tema di gestire le segnalazioni che arrivano dall'esterno. Voi sapete che un software open source è visibile, ha del codice accessibile a tutti, di conseguenza è pronto a ricevere eventuali segnalazioni da parte di soggetti terzi, utenti o altre amministrazioni che andranno a segnalare dei bug o a interagire. Non è un obbligo interagire, intendiamoci, quindi non è automaticamente un costo aggiuntivo per il vostro ente, è in realtà una grande opportunità e su questo potremo parlare a lungo, è importante che nel rapporto tra ente e fornitore sia citata l'esistenza di questo tipo di dinamica aggiuntiva in modo che la si possa regolare correttamente e beneficiarne al meglio. Infine c'è un allegato che riguarda gli affidamenti di presa in riuso di software di terze parti, di altre amministrazioni e di modifica di tale software, perché ovviamente se io prendo in riuso un software open source, quindi posso farlo senza neanche contattare l'altra amministrazione, il codice sorgente è disponibile e la sua licenza regola tutto quello che posso farne, però lo prendo e ho bisogno di modificarlo, su queste modifiche di cui io sono titolare ho a mia volta l'obbligo di rilascio in open source, quindi ricominciamo il ciclo che vi dicevo prima. Ripassiamolo un attimo nel dettaglio con un grafico. Immaginate che voi siete la pubblica amministrazione A e decidete di sviluppare un software da zero, quindi lo commissionate ad uno sviluppatore, un fornitore, una in house oppure anche un vostro ufficio interno. Acquisite la titolarità di questo software, questo è un obbligo del CAD, dovete acquisire tutto il codice sorgente, quindi diventa totalmente vostro, è importante che nel contratto ci sia scritto questo sostenimento. A questo punto come amministrazione avete l'obbligo di rilasciare in open source. Che cosa fate? Con gli allegati che vi dicevo prima è molto semplice, automaticamente dite allo sviluppatore, al fornitore, di fare questa attività di pubblicazione. La pubblicazione avviene su una cosiddetta piattaforma di code hosting, per chi di voi è più tecnico posso citarvi piattaforme come GitHub o GitLab, quindi anche ospitate in casa oppure fornite ad esempio dalla vostra regione, ci sono delle regioni che ospitano il software dei propri enti territoriali, quindi piattaforme dove si mette codice sorgente e dove tutti gli utenti possono accedere e vederlo. Questo codice sorgente dovrà essere corredato di una scheda, di una scheda di descrizione, fatta secondo un preciso formato che si chiama public code. Questa scheda quindi sarà presa in automatico dal catalogo di Developers Italia, che adesso vi mostrerò. Quindi è un catalogo, Developers Italia, un po' diverso da quelli a cui forse siete abituati, cioè non è un catalogo centralizzato in cui bisogna ricordarsi di andare ad aggiornare le informazioni periodicamente. È un catalogo che si compone automaticamente attraverso un crawler, un sistema che va a prendersi da solo le informazioni in modo distribuito, su tutti i vari spazi di code hosting delle varie pubbliche amministrazioni. Vi faccio un esempio più concreto, scendo leggermente più nel tecnico, spero che mi possiate seguire tutti. Lo scenario sarà questo, ogni pubblica amministrazione dovrà aprirsi un proprio spazio dove mettere il suo codice. Quindi vi faccio l'esempio di GitHub, ma ripeto, tutte le altre piattaforme esistenti sono ovviamente accettate. GitHub.com slash comune di Roma, oppure slash regione Liguria, oppure slash nome dell'ente. Quindi uno spazio unitario dove quell'ente andrà a pubblicare tutto il software di sua proprietà. Questo codice, questo spazio va dichiarato, va dichiarato attraverso una procedura di onboarding che si trova dal sito di Rivelo Perse Italia, non so se c'è una slide per mostrarvela velocemente, in ogni caso si tratta di una, no non c'è, ma insomma di fatto è un semplice modulo con cui si dichiara una tantum, io sono l'ente X e tutto il mio codice si trova a questo indirizzo. Quindi è un'operazione, una tantum che si fa online e sulla quale ovviamente vi aiutiamo in tutti i modi, da quel momento in poi Deval Perse Italia si andrà a comporre automaticamente con tutte le soluzioni presenti nei vari spazi dichiarati dalle pubbliche amministrazioni. Anzi, vi mostro subito in realtà questo catalogo che vi sto dicendo. Il catalogo lo trovate online al sito developers.italia.it, è accessibile a tutti, contiene le schede ad oggi di una settantina di soluzioni già rilasciate dallo scorso maggio, quindi come capite in realtà molte amministrazioni stanno lavorando molto attivamente per rilasciare il proprio codice sorgente e trovate delle schede molto dettagliate per ogni software che servono in realtà sia ai più tecnici sia ai meno tecnici, quindi personale più dirigenziale o amministrativo degli enti così come i più tecnici. E cioè lo scopo qual è? Aiutarvi a fare le valutazioni comparative che dicevamo prima. E cioè attraverso queste schede voi potete vedere questi software quando sono stati aggiornati l'ultima volta, quali funzionalità hanno, chi li sta usando, se c'è un contratto di manutenzione attivo e quindi potete farvi un'idea se è un software obsoleto o manutenuto, eccetera, eccetera. Quindi schede descrittive che vi invito a vedere, ad esempio, non so, c'è questo software della sala operativa dei vigili del fuoco, tutto open source, aprite la scheda di questo software, potete cliccare su buy al codice, quindi potete prendere il codice sorgente e se ne avete ovviamente la possibilità o la capacità anche direttamente provarlo, facendovi magari assistere dai vostri partner tecnologici e potete vedere gli screenshot direttamente nel catalogo con, appunto, vedete, da qui mi posso fare già un'idea di come funziona questa sala operativa e quindi posso già, senza addirittura neanche andare a contattare i vigili del fuoco, posso già valutare questo software e capire se fa al caso mio oppure no. E vi invito, appunto, ad andare sul catalogo e a sfogliarlo e a darci riscontro in tutti i modi, noi siamo veramente disponibili e non solo, siamo addirittura assetati di consigli e riscontri da parte vostra che operate sul campo tutti i giorni. Torniamo al nostro flusso di prima. Allora, abbiamo visto il processo per cui una pubblica amministrazione sviluppa un software e lo pubblica in open source su Developers Italia. Vediamo l'altra metà del film. Che cosa succede quando un'altra amministrazione, ad esempio l'amministrazione B, va alla ricerca di un software? Perché anche l'amministrazione B deve fare la sua bella valutazione comparativa. Quindi nella macro fase 1 si trova a dover cercare un software a riuso open source esistente. Allora cosa fa? Va su Developers Italia, si sfoglia le schede, c'è un motore di ricerca, il catalogo è pensato per essere fruibile e trova un software che decide di adottare o di testare. Lo può fare liberamente, come dicevo, senza neanche contattare l'altra amministrazione. E se decide di utilizzarlo, lo può fare direttamente. Se poi decide di andare a fare delle modifiche su questo software, avrà un suo sviluppatore, un suo fornitore, e come vi dicevo prima, di queste modifiche diventa a sua volta titolare. Voi capite che quindi quello che si viene a creare è un software che ha più titolari, un pezzo di un'amministrazione, un pezzo di un'altra. Questa circostanza vi può sembrare caotica, ma in realtà vi assicuro è quello che succede nell'open source in tutto il mondo da 30 anni, per cui in realtà il software, non importa di chi sia, è importante che ci sia una licenza open source che regola che cosa gli altri ne possono fare. E quindi vi dicevo, questo software modificato a sua volta va rilasciato di nuovo in open source, dove su uno spazio di co-hosting della pubblica amministrazione B. Chi di voi in realtà è più familiare con l'open source sa che c'è un'altra strada, che è quella di mandare un contributo di codice al progetto precedente. Perché chi mantiene il progetto precedente, quindi l'amministrazione A, oppure il fornitore incaricato dall'amministrazione A, potrebbe valutare interessante, conveniente, recepire le personalizzazioni fatte da un'amministrazione riusante, perché se si mettono tutte insieme abbiamo un software probabilmente più flessibile, più maturo, più sicuro, eccetera. Però questo non è un obbligo, l'inneguida lo suggeriscono, ma ovviamente è rimesso alla valutazione tecnico-economica di ciascuna amministrazione. Allora, sto vedendo tutta una serie di domande, quindi in realtà forse anziché andare troppo avanti è il caso che mi fermi un attimo per rispondere a tutte le cose che state chiedendo. Allora, vado un po' dalla fine e vado in alto, perdonatemi. Se l'accesso al co-hosting è vincolato al rilascio di clienti di accesso, si può parlare di open source? Allora, tecnicamente l'open source riguarda la disponibilità del codice esorgente e la presenza di una licenza open, però a prescindere da discorsi più ampi che possiamo fare, le linee guida dicono molto chiaramente che il co-hosting deve essere accessibile liberamente senza credenziali. Quindi per quanto vi interessa e quanto RTD sappiate che il vostro codice non dovrà essere soggetto a richiesta di password, il codice dovrà essere accessibile da chiunque pubblicamente senza password. Allora, altre domande? Che conseguenze, chiedeva Luciano Rizzi, che conseguenze vi sono per la PIAS se non viene effettuata una valutazione comparativa a fronte dell'acquisizione? Allora, in questo momento, parliamoci chiaramente, non esistono sanzioni codificate nella normativa. è importante ricordare però, immagino che voi tutti abbiate ricevuto barra subito il questionario della Corte dei Conti, fatto in collaborazione con il commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, e avete visto che in questo questionario la Corte dei Conti è andata a chiedere quali attività di riuso essenzialmente il vostro ente ha compiuto. Il principio che si sta consolidando è quello per cui, se un ente non mette a riuso il proprio software, sta di fatto impedendo ad un altro ente di risparmiare. Quindi, come capite, si configura una sorta di danno erariale di sistema, quindi questo è un principio che si sta consolidando anche a livello di Corte dei Conti, quindi adesso non lo sto dicendo ovviamente per evocare degli spauracchi astratti, lo dico per dirvi la direzione in cui anche il legislatore si sta muovendo. E' chiaro che stiamo in una fase di implementazione e di sperimentazione, però è importante che tutti quanti ci lavoriamo sin da subito proprio per migliorare e mettere a regime questo sistema nel modo più conveniente per tutti. Chiedeva Francesca Gleria, si sta pensando ad un tool che accompagni il censimento, così che lo facciamo in modo standardizzato e utile per essere riusato? Sì, se capisco bene la domanda, Francesca chiede se in fase di pubblicazione del software in open source c'è un modo standard per descrivere il software. Sì, si chiama Public Code ed è questo formato di metadatazione molto semplice, molto intuitivo che abbiamo realizzato per descrivere il software. Non mi dilungo adesso perché non abbiamo tempo per entrare nel tecnico, però trovate tutto nel sito di Developers Italia e ci potete contattare via forum, via Slack, via email quando volete. Chiede Michele Amodeo, per software esistente che viene rilasciato come open source e presente sul portale di Developers Italia, può essere utilizzato soltanto a predio pagamento dell'assistenza? È un'ottima domanda, ovviamente no, nel senso che il software open source è rilasciato pubblicamente, chiunque lo può prendere, installare, usare, perché la licenza open source in quanto tale concede questa libertà. Addirittura può essere modificato e ripubblicato, senza bisogno neanche di contattare, chiedervi permesso eccetera, quindi non esiste neanche lontanamente il caso di dover pagare per forza un'assistenza. Ovviamente poi se volete potete incaricare dell'assistenza chi volete, lo stesso sviluppatore o addirittura potete fare un accordo di collaborazione con l'amministrazione titolare e qui certo parliamo di queste parti. Oppure potete fare una vostra gara, un affidamento su Meta, potete accedere agli strumenti di Consip e quindi incaricare chi volete della manutenzione di un software. L'open source tra i suoi tanti pregi ha quello di rilasciare ridurre il lock-in, perché il codice è lì, è aperto, è leggibile e quindi altre persone possono metterci mano. La domanda di Luca Dainese. Buongiorno, nelle soluzioni a riuso vorrei sapere come fare per evitare il lock-in ed applicare il principio di rotazione dei fornitori quando queste soluzioni a riuso sono concretamente mantenute da unica software house, quella che ha sviluppato la soluzione per un APA che poi l'ha messa a riuso. Allora, come fare per evitare il lock-in e applicare i principi di rotazione dei fornitori? Allora, diciamo l'open source aiuta questo concetto perché separa il soggetto, separa il fornitore dalla soluzione software. Quindi in realtà l'amministrazione può tranquillamente continuare a usare una soluzione software che ha in essere, senza i costi di migrazione eccetera, ma può tranquillamente incaricare un altro fornitore per andare a fare le attività evolutive o di manutenzione. Un software open source essendo aperto permette di essere studiato quindi si può mettere a gara e chiaramente chi si presenterà dimostrerà, attesterà la sua capacità di mettere mano su quella soluzione software. Quindi in realtà andiamo in quella direzione, vorrei aver risposto alla domanda. Chiede Rocco Matricciani, posso acquisire software open source anche se il TCO, il total cost of ownership risulta più alto rispetto a software commerciale? È una ottima domanda. La risposta è sì perché su questo il CAD è estremamente chiaro. Il CAD dice se c'è software open source, sto ovviamente semplificando, se c'è software open source, possibilmente a riuso, deve avere priorità e quindi nella valutazione comparativa voi avete un flusso che vi dice c'è software a riuso, c'è software open source? Se sì, esco dalla valutazione comparativa, non accedo neanche alla fase in cui valuto il software commerciale. Ovviamente capite bene che se parliamo di casi estremi in cui i valori sono talmente difformi, la valutazione comparativa vi dà modo di fare questo tipo di valutazioni perché tipicamente un costo molto alto si accompagna a dei costi di migrazione o dei costi legati al TCO, dei costi di tempi di messa in opera, quindi è chiaro che c'è una ragionevolezza in tutto questo che ci stiamo dicendo. Comunque la risposta è sì, l'open source ha priorità per legge. Chiede Roberto Mameli, no l'abbiamo già risposto a questa domanda, chiede Lorena, Anna Ruberti, per un SPA a capitale pubblico con mission specifiche e strategiche non paragonabili all'EPA in senso stretto non aventi esplicite esigenze di interoperabilità può essere giustificata una parziale deroga rispetto alla soluzione open source? Questa è una domanda complessa che merita approfondimento, possiamo farlo anche all'atere nel senso che ovviamente bisogna capire esattamente la natura giuridica dell'ente di cui parliamo per capire in quale misura le norme del CAD siano applicabili a questo ente, voi sapete che sugli enti che non sono del tutto pubbliche amministrazioni ma hanno altre forme giuridiche il CAD si applica in varie gradazioni, quindi di questo possiamo parlare vedendo il caso specifico. Chiede Luciano Ritti, se la PA dispone di una società ICT in house come Regione Lombardia è tenuta alla valutazione comparativa o trasferisce alla in house l'onere? La risposta è sì, è tenuta alla valutazione comparativa perché lo dice l'articolo 68 in modo estremamente chiaro, ovviamente nulla vieta all'ente di farti aiutare in house nel fare la valutazione comparativa, approfitto per dire questo, questa valutazione comparativa è un documento in più da fare, se le vostre amministrazioni non sono in grado internamente di fare questo esercizio tecnico, in realtà quello che succederà è che vi potrete avvalere di consulenze, ci aspettiamo anche su NEPA, anche consulenze di piccola entità che vi servono per realizzare questa valutazione comparativa e poi fare un'acquisizione di software ottimale, quindi se non avete in casa queste competenze le potete acquisire sul mercato oppure attraverso le in house, anche solo per la valutazione comparativa, ovviamente spero sia chiaro a tutti che è il caso di vigilare i suoi potenziali conflitti di interesse perché il soggetto a cui chiedo è la valutazione comparativa potrebbe avere interesse a spingere verso un certo esito di questa valutazione e quindi è importante che quando ci si avvale di questi aiuti si separino i soggetti a cui si chiedono questo tipo di consulenza. Poi chiede Kijim se Inps nel prossimo mese sviluppa come ha detto Guido Pera un nuovo plugin e ovviamente non lo pubblicherà sul catalogo di riuso per una lista molto lunga di motivi, che cosa succede? Succede che l'ente in questione, adesso penso sia del tutto casuale, l'ente in questione sarà in violazione dell'obbligo dell'articolo 69 e quindi di fatto succederà che impedirà ad altre amministrazioni di avvalersi di questa spesa già effettuata e quindi quello che succederà sarà un'attività di impulso e accompagnamento da parte della Presidenza del Consiglio e di Agid verso la piena attuazione della norma di legge e quindi rilascio. Cerco di imprigarmi perché vorrei lasciare la parola a Stefano Paggetti per l'ultima parte. Mario Dechenno, come affrontate il problema della qualità della documentazione software rilasciata in open source? Lo affrontiamo aiutando il più possibile le amministrazioni e i fornitori a ragionare in ottica di open source, questo è più un discorso culturale di fornitura di strumenti e di community, possiamo approfondire comunque l'argomento. Marco Babbey, è auspicabile richiedere lo sviluppo del codice seguendo linee guida ISO? Certo che sì, questo è assolutamente nella libertà della contrattazione tra ente e fornitore, è anche auspicabile che questi contratti siano il più robusti possibile e anzi anche qui vi invito, tutti questi consigli su come scrivere bene un contratto, un capitolato con un fornitore che tenga conto di tutti questi aspetti è qualcosa che va assolutamente condiviso in community e vi invitiamo a farlo, se volete farlo anche attraverso di noi, se volete anonimizzare i vostri documenti prima di pubblicarli. Rosario Alagna chiede, può indicarci dove trovare informazioni dettagliate sulla gradualità di applicazione del CAD rispetto alla natura giuridica dell'ente? Non credo che esistano dei testi su questo, credo che se ci contattate su questo, se contattate noi, anche il Cicros ovviamente di Agid, possiamo sicuramente approfondire con voi l'argomento. Brizio Palamà chiede, se si deve adottare una soluzione open, customizzata per un ente, spesso si deve pesantemente modificare per essere in linea con le esigenze dell'ente, perché magari non è mobile, sacrosanto, quindi applauso da parte mia per questa attenzione, oppure non è integrata al DAP, quindi costa di più partire da un semilavorato che optare per una soluzione commerciale. Ciò si valuta nell'analisi comparativo se obbligati all'uso della soluzione open. Si valuta assolutamente, nel senso che il TCO prevede una voce di costi di adeguamento e di adattamento, che quindi si mettono in comparazione con soluzioni più o meno pronte. Ovviamente il TCO è una metodologia di calcolo che tiene conto anche di una prospettiva un po' più lunga nel futuro e quindi tiene conto anche del vantaggio per l'ente e per il sistema di acquisire una soluzione in proprio. In tutto questo io penso di fermarmi qui e vi rimando soprattutto al Forum Italia, dove esistono tante sezioni tematiche e circa 60.000 persone alla settimana accedono per leggere e partecipare, quindi anche come RTD siete assolutamente invitati nella sezione RTD del Forum, ma anche nella sezione software open source per la pubblica amministrazione, che è proprio specifico sui oggi. Vi segnalo infine che c'è uno strumento un po' più tecnico, per chi di voi è un po' più tecnico, soprattutto è rivolto agli sviluppatori, ma non solo agli sviluppatori. Chiama Slack, è una chat in tempo reale dove potete entrare e trovate noi, noi intendo team digitale, Agid, ma anche decine e centinaia di persone che come noi e come voi nelle pubbliche amministrazioni tutti i giorni lavorano su questi temi e quindi anche in modalità più informale si può scambiare idee. Mi fermo qui, grazie a tutti, lascio la parola a Stefano Paggetti. Salve Stefano, non la sentiamo? Forse non ha attivato il microfono? Eccomi qua, ci sono? Ecco, adesso sì, è un po' laterale come inquadratura rispetto alla webcam, però ecco, molto meglio, grazie. Grazie, allora iniziamo quest'ultima parte, mi sembra che ci sia un dibattito molto acceso per cui ritengo questo di grande interesse. Un primo commento su alcuni dei commenti che sono arrivati è generale, cioè open source significa mettersi insieme, significa fare in modo che le attività vengano condivise fin da subito, dall'inizio, quindi ad esempio se esiste della documentazione che non va bene, se esistono dei dubbi o dei suggerimenti, è riportarli direttamente a chi gestisce quella soluzione, senza passare per altre strade. Iniziamo quest'ultima parte di webinar dedicato alle community. Parto con questa slide che sono a mio avviso i quattro elementi per accelerare la trasformazione digitale, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito dagli interventi precedenti sia di Guido che di Alessandro, riuso, open source, valutazione comparativa, community, sono elementi ricorsivi che mi permettono di dire che se adotto soluzioni open source posso metterli a riuso e mettendo in piedi o partecipando ad una community posso essere aiutato a fare una valutazione comparativa che mi permette di nuovo di rinnescare il giro. Questo per sottolineare come gli elementi da tenere in considerazione sono per quanto riguarda il riuso e il fatto che va considerata come opzione organizzativa, per quanto riguarda open source va considerata come scelta tecnologica, quindi io riutilizzo un'esperienza e adotto una soluzione, per adottare una soluzione devo fare una valutazione comparativa, perché la valutazione comparativa è un obbligo che mi viene dal codice degli appalti, quindi non è nuovo, il CAD semplicemente sottolinea l'esigenza di farlo, ma è il CAD che mi dice che devo valutare le soluzioni esistenti e a questo punto vado ad approvvigionarmi. Veniamo adesso all'elemento centrale, le comunità. Abbiamo detto che l'open source è sostanzialmente basato su un concetto di comunità da sempre, le comunità sono quelle che mi permettono di favorire la collaborazione tra i partecipanti a quella comunità e sono quelle che mi permettono di favorire quello che per noi è l'oggetto del desiderio, ovvero il riuso di soluzioni disponibili sviluppate dalla pubblica amministrazione. A cosa serve una comunità? Innanzitutto la comunità è un'aggregazione informale, la comunità è un oggetto volontario che viene creato grazie all'iniziativa di singoli, dove per singoli possono essere persone o organizzazioni, che però sono anch'essi all'interno di strutture formali più articolate, quindi all'interno di enti sostanzialmente. La comunità mi permette di favorire lo sviluppo di competenze, quindi di non essere solo, di creare la base di conoscenza su cui poi costruire l'idea di come codificare e di come descrivere le mie esigenze e i miei fabbisogni. La comunità soprattutto permette di organizzare la domanda, uno dei problemi più grandi delle soluzioni open source è quello di fare in modo che i contributi di un soggetto vengano resi disponibili a tutti gli altri soggetti che utilizzano quella soluzione. La comunità serve ad organizzare la domanda, quindi serve a fare in modo che le esigenze di un singolo divengano una parte di un'esigenza collettiva, che è l'esigenza di tutta la comunità degli utilizzatori di quella soluzione e questo permette di pianificare gli interventi e di pianificare lo sviluppo di quella soluzione. Questo chiaramente serve ad accelerare la trasformazione digitale, serve ad accelerare i processi di riuso, serve a rendere più semplice e non solo, non solo non in solitario intendo, le persone che negli enti si occupano di decidere. Quindi per riassumere una comunità esiste quando un gruppo informale di persone si mette insieme per aumentare la competenza collettiva, quindi non solo la propria, in un determinato dominio di conoscenza e vediamo quali sono gli elementi minimi per costruire una community. Questa è una definizione di Wenger, uno studioso delle comunità, affinché una comunità esista deve esistere un ambito tematico su cui creare un contesto e un senso di identità fondamentale, nel senso io devo sentirmi appartenente o devo sentirmi nella esigenza, nel bisogno di avere informazioni in quello specifico dominio tematico. La comunità deve esistere, nel senso che deve esistere un gruppo sociale che allo stesso tempo è oggetto e soggetto dell'azione, questo è molto importante perché ci permette di mettere insieme l'attore che agisce e il soggetto che subisce quelle azioni, questo permette di avere un processo osmotico tra fornitore e cliente che permette di far crescere quindi la conoscenza collettiva su quel dominio tematico. Poi esiste la pratica, la pratica è fondamentale, è il motivo per cui di fatto sono gli strumenti che mi permettono di far agire la comunità e di far crescere le competenze sull'ambito tematico della comunità stessa. La pratica è quello che abilita la comunità a mettersi insieme e quello che abilita la comunità ad aumentare la competenza dei singoli. Le comunità sono di diversi tipi, nel senso che le comunità servono per community ma sono anche aggregazioni semplici, vediamo alcune definizioni dei motivi per cui ci si mette insieme. La cosa più semplice è quella del gruppo di lavoro, di progetto, sono delle aggregazioni formali, nel senso che vengono istituite per realizzare uno specifico obiettivo, uno specifico progetto e sono tipicamente interne ad un'amministrazione, ad un gruppo di amministrazione. Il gruppo di lavoro, il gruppo di progetto non è una vera e propria comunità, è un gruppo di persone e di risorse che si mettono insieme perché devono realizzare un obiettivo, ma la comunità viene soltanto dopo che l'output del progetto è stato realizzato e su quell'output si costruisce eventualmente una comunità, che poi diventa sostanzialmente la comunità di pratica. La comunità di pratica è anche questa un'aggregazione spontanea, per cui non è formale, ma è una vera e propria aggregazione spontanea che viene costituita su iniziativa dei singoli, singoli che riconoscono il bisogno di avere maggiore conoscenza e favorire l'apprendimento delle competenze. Poi c'è la best practice, quindi la buona pratica e questo è un altro elemento rilevante. Nell'open source, come dicevamo all'inizio, il riuso è sostanzialmente il riuso di una buona pratica, quindi io riuso l'esperienza, riuso la pratica di un altro e provo a metterla a disposizione di altri soggetti che sono interessati ad utilizzarla. La buona pratica quindi è quello che mi permette di abilitare il riuso. Il riuso è a sua volta, presuppone l'utilizzo di strumenti tecnologici che nel nostro caso specifico, devono essere rilasciati con licenza aperta ed è per questo che il riuso e open source diventano le due facce della stessa medaglia. Altro criterio di aggregazione è il gruppo di interesse, anche questo è un gruppo informale, che serve sostanzialmente per diffondere o acquisire informazioni. Il gruppo di interesse è tipicamente una lobby, il gruppo di interesse è lo stakeholder, quindi il gruppo di interesse è quello che tutela o cura o promuove gli interessi in uno specifico ambito di uno specifico gruppo di soggetti. Tipicamente anche questi partecipano, anche i portatori di interesse partecipano a progetti, partecipano ad iniziative specifiche, ma non possono essere considerati to cure una community, una comunità vera e propria. Ultimo elemento è la rete informale, la rete informale è un canale, quindi è uno strumento di comunicazione, serve per condividere materiali, serve per condividere documenti, informazioni e è indipendente dalla presenza di una comunità, il che significa che io posso avere delle reti informali che trattano argomenti di varia natura. La rete informale è un canale di comunicazione e quindi il canale di comunicazione serve per diffondere, serve da megafono, ma non è anch'esso una comunità, può essere invece uno strumento di comunità, questo sì. Vediamo la governance, una comunità ha alcuni elementi importantissimi, una comunità viene promossa, quindi senza l'ispiratore, senza una comunità che ha un promotore, non esiste la comunità, il promotore della community è quello che organizza la rete tra i membri, le relazioni, si occupa della comunicazione istituzionale, è il frontman della community, è quello che permette alla comunità sostanzialmente di esistere ed è quello che insieme al community manager si occupa del funzionamento della community, cura i rapporti fra i membri, senza questi due ruoli la comunità praticamente non esiste. La differenza tra i due ruoli è sostanziale, il primo, il promotore ha un ruolo di diffusione verso il livello politico istituzionale, il community manager ha un ruolo di diffusione verso i membri interni della community, quindi il promotore lavora sull'esterno, il community manager lavora più sull'interno e quindi tiene attiva la comunità stessa. Gli altri tre ruoli, content manager, esperto e amministratore di sistemi sono ruoli importantissimi, sono ruoli senza i quali la comunità fatica a generare benefici, ma la comunità esiste sempre, quindi quando andiamo a costruire una comunità la cosa importante è che esista almeno un promotore ed esista almeno qualcuno che si occupi della comunità per farla ragionare e per farla andare avanti. Veniamo alle varie tipologie di comunità, le comunità sono di vario tipo, di per sé è difficile che una comunità sia solo di un tipo o solo di un altro, sta di fatto che le comunità possono essere di pratica, di progettazione e sviluppo, comunità tematiche e comunità geografiche di apprendimento e formazione. Io ho messo alcune slide successive che vi illustro in maniera molto a volo d'uccello e che vi invito però a guardare successivamente perché il tempo è tiranno e comunque come abbiamo detto le comunità di pratica si occupano di aumentare la conoscenza collettiva e quindi hanno un focus sul trasferimento di conoscenza, le altre comunità hanno un focus sulla produzione che è quello di progettazione e sviluppo, l'altra comunità sono comunità tematiche basate sulle competenze, quindi sulla formazione di competenze, le comunità geografiche sono general purpose e sono dedicate al supporto verso gli aderenti e infine le comunità di apprendimento sono dei sotto insieme di comunità dedicate a altre, dedicate un po' generalmente a formare il tutto. Come scenari di funzionamento di una comunità sono quelli che è fondamentale quantomeno avere un promotore e un community manager e gli altri sono ruoli che possono essere diversamente graduati in funzione della tipologia di comunità. Tornando al nostro tema del riuso, questa carrellata di elementi che riguarda appunto le community è un tentativo di razionalizzare quelli che possono essere gli strumenti che possono essere messi a disposizione e è un tentativo anche di razionalizzare quali poi possono essere il supporto che il centro di competenza sul riuso open source può dare ai vari enti. Io mi fermo, se ci sono domande o interventi sono qua. Eccoci, allora, se ci sono domande su questa parte possiamo chiedere a Stefano Paggetti. C'è una considerazione? Allora, in risposta a Kim Jim, a cui chiediamo ancora una volta di uscire dall'anonimato e di degnarci di un nome, Francesca Gleria dice anche io penso spesso che se in Italia stiamo facendo cose già fatte in Europa o se ha senso fare una community nostra. La risposta che mi sono date è che è utile avere tutti i nodi attivi a più livelli, locale, regionale, nazionale ed Europa. Quindi è una considerazione, non è una vera e propria domanda, però se Stefano si fa risposta a questo, sì. Io credo che sia assolutamente corretto quello che dice Francesca, cioè se noi non mettiamo in piedi una sorta di governance di comunità, che nel caso specifico potrebbe essere il centro di competenza dell'open source a cui faceva riferimento prima Guido, chiaramente ognuno rimarrà solo nel proprio ambito e chiaramente sarà difficile condividere i contributi che possono essere messi a disposizione. L'idea del centro di competenza è un'idea che serve a costruire un modello federato in cui Agid ragiona con gli enti centrali e gli enti europei e allo stesso tempo mette in collegamento questi con le regioni in modo da fare una comunità la più ampia possibile, la più diffusa e la più partecipata possibile. Non so se poi leggo. Grazie. Keep Jim. Perché risviluppare contenitori e piattaforme? Invece del già pronto join up? Ma perché sono, a mio avviso, perché sono due cose relativamente differenti. Join up ha degli strumenti di Velopers Italia, ne ha altri ed ha anche delle finalità diverse. I due sono chiaramente strettamente legati, sono strettamente interconnessi e partecipano uno sull'altro. Collaboriamo costantemente con la Commissione, quindi proprio su questi temi, soprattutto su join up, quindi è l'idea proprio della comunità che sta sotto al tutto. Non so se ci sono altre domande, però sono rimaste in sospeso le domande a Guido Pera, quindi non so se vuole riprendere la parola oppure se si impegna a risponderci per iscritto. Mi sono ricollegato di nuovo. Ancora in linea? Sì, sono in linea. Ok, benissimo. Sono in linea. Allora. Ok, allora se vede le domande sono quelle iniziali, sono nel box delle domande. Ah, quelle rosse, giusto. Allora sono veloce. No, quelle nere. E non le trovo quelle. Le prime. All'inizio, all'inizio, Francesca Gleria, state pensando a delle checklist guida per aiutare nel processo di valutazione? In effetti avevo risposto già direttamente nella chat, comunque non c'è problema. Sì, stiamo pensando praticamente a una, diciamo più che altro alla definizione di categorie. Il discorso che accompagna il censimento, in effetti stiamo pensando a qualcosa che può essere il discorso di categoria, cioè cercare di categorizzare in maniera un pochino più strutturata quello che sta su Divino Versi Tagli adesso in maniera un pochino più confusa. E comunque c'è una cosa che vorremmo dire, che al di là praticamente degli oggetti che ho descritto inizialmente, esattamente come si sta facendo nel progetto ISA Square, esattamente in EIF, oppure in altri passi dell'ISA Square, noi stiamo pensando chiaramente di dare priorità da qui a qualche tempo al concetto di componenti, cioè al fatto di dare maggiore priorità al riuso e quindi al riuso delle componenti, diciamo addirittura sull'ottica dei microservizi. Questo perché sicuramente, e questo in effetti l'esperienza della Speciale insegna, sarebbe così molto più semplice praticamente avendo dei microservizi, avendo delle componenti da riutilizzare per le pubbliche amministrazioni e perché no anche per il mercato creare soluzioni nuove. Per quanto riguarda il supporto al centro di competenza, ho scritto la PEC del centro di competenza, per quanto riguarda il discorso dell'Inps che fa plug in, invitiamo a quell'indirizzo di PEC di segnalarci situazioni, perché siamo già intervenuti per poter a questo punto parlare e convincere le pubbliche amministrazioni a mettere in riuso soprattutto il software nuovo. Questo discorso che mi fa Michela Modeo su questa cosa mi inorridisce, proprio non esiste che uno chieda praticamente il pagamento dell'assistenza per utilizzare ciò che sta sul portale di Divilo Versi Italia e mi sembra anche abbastanza strano, perché ciò che sta sul Divilo Versi Italia sta su un repository e c'è un accesso diretto al codice sorgente e quindi uno se lo può tranquillamente prendere e scaricare senza assolutamente nessun problema, fa parte delle regole del gioco, delle regole che stanno all'interno delle licenze aperte. Per quanto riguarda il discorso della rotazione dei fornitori, continuo a dire che per quanto riguarda il codice, il codice è disponibile, il codice deve avere una documentazione sul repository, se la documentazione è carente, ci sono le issue, ci sono praticamente segnalazioni che vanno fatte direttamente e comunque a non avere una documentazione sufficienza significa in qualche misura che la comparazione valutativa è negativa per quella soluzione che sta sul repository e comunque la configurazione e personalizzazione del software si fa comunque chiaramente su base d'asta, cioè su una gara e se casomai non si può utilizzare la casa si possono utilizzare direttamente i contratti quadro che stanno sul MEPA. Considerate che i contratti quadro che stanno sul MEPA non devono essere chiaramente contratti quadro legati a quel particolare software, ma naturalmente sono contratti quadro che sono comunque per quanto riguarda dei servizi generici di personalizzazione e configurazione di quel software, quindi in effetti è completamente slegato quello che sta sul repository, il codice e la documentazione, al fatto che è chiaro che chi ha sviluppato quel codice potrebbe fare delle offerte migliori, ma in effetti abbiamo già esperienze del passato, una per esempio me la ricordo molto bene sulla gestione documentale delle regioni generali dello Stato che praticamente chi aveva fatto il software non ha vinto la gara per quanto riguarda la manutenzione successiva. Poi naturalmente sì, ribadisco che per quanto riguarda l'accesso ai repository deve essere assolutamente libero, perché facciamoci a capire, tutte le licenze aperte che stanno nell'elenco OSI prevedono accesso libero e pubblico in lettura e in scarico ai repository. Quindi non esiste che qualcuno, e siamo già intervenuti su alcune pubbliche amministrazioni che pretendevano di avere, avevano caricato in premise su server loro GitLab o GitHub e casomai prevedevano chiaramente la registrazione, non è possibile, se prevedi la registrazione non sei open source, sei fuori dalle linee guida. Il discorso della SPA a capitale pubblico con commission specifiche, c'è in questo momento un dibattito in corso, in questo momento le linee guida sono chiaramente destinati alle pubbliche amministrazioni secondo l'articolo 1 del decreto reggiativo 165, sia chiaro. Stiamo comprendendo, però è chiaro che in certi casi il rapporto tra pubblica amministrazione e società in house è talmente stretto che ci sono chiaramente delle ridefinizioni, stiamo anche ripensando a delle ridefinizioni che possono in qualche maniera ricomprendere le stesse società in house nei soggetti che devono rispondere praticamente a quanto descritto nella linea guida. Per quanto riguarda il discorso del TCO, del Total Cost Owner, casomai che registriamo più alto nei confronti di uno privato, credo che la risposta non ve la possiamo dare adesso siccate semplici, ma ci aspettiamo chiaramente che sia all'interno del tool sulla comparazione valutativa che stiamo praticamente costruendo anche insieme al feedback delle regioni e di una serie di pubbliche amministrazioni che sono già esperte in riuso e in community e che dovremmo licenziare intorno alla fine di gennaio e inizio febbraio. Perdonatemi se questa è una risposta soltanto interlocutoria, perché non crediamo che il semplice TCO basti a fare una comparazione valutativa. mi pare che ho finito qua, dovrei aver completato. Grazie, abbiamo sporato di 5 minuti, ho visto che ci sono altre domande e io segnalo ad Agid l'interesse per questo argomento e quindi eventualmente per ripetere, per avere una seconda edizione un approfondimento su questo tema. Mi premeva soltanto rispondere a Gip Jim che dice le issue si possono aprire certo, ma se uno già fa... no, non era questo. Visto che c'è un riferimento al syllabus e al digicomp, volevo rispondere a questo. A me sembrano entrambi esempi sovrapposti, nello specifico uno o due webinar fa avete dimostrato il test competenze del syllabus che fa esattamente ma peggio ciò che fa Digicomp. Allora volevo dire che il progetto per cui è stato elaborato il syllabus afferisce al Dipartimento della Funzione Pubblica e non ad Agid e il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato il syllabus come competenze di base per i dipendenti della pubblica amministrazione, nella introduzione del syllabus dichiara che dà diciamo come scontate le competenze a cui fa riferimento Digicomp che si rivolge alle competenze per i cittadini, quindi se possiamo un po' distinguere su queste cose. Poi possiamo discutere nel merito anche rispetto alla comparazione, però non è Agid il soggetto e il syllabus è declinato per le competenze di base del Dipendente Pubblico dando per scontato che appunto il Dipendente Pubblico sia anche cittadino e quindi abbia le competenze di Digicomp 2.1, della versione 2.1. A questo punto vi ringrazio tutti e vi rimando appunto al calendario che è presente sul sito di Agid, il prossimo incontro dovrebbe essere un incontro in presenza, noi vi aggiorneremo se saranno previsti altri webinar naturalmente a questo punto da gennaio in poi, quindi auguro buone feste a tutti quelli che ci seguono con Costanza, ringrazio moltissimo i nostri relatori di oggi e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Grazie tante.